Questa mattina abbiamo piantumato con la Scuola Negri di Vicenza, con i bambini della Scuola Negri alberi per il parco della Valletta del Silenzio, un momento importante per significare ai bambini quanto sia importante il rispetto dell'ambiente, la piantumazione e soprattutto il contrasto alle polvere sottili. Allora venite tutte e tre insieme e mettetevi dietro i vostri compagni. Grazie!